l'ora d'aria minni minni ti affaccio tutto ok? l'ora d'aria mi carcerate minni ti piace l'aria fresca? si, ti piace minni minni ti piace l'aria fresca? è per dire l'aria fresca non è caldo non è caldo ok rimani lì? minni si? va bene ciao grazie a tutti grazie a tutti